Oggi vorrei parlare del tempo, non del tempo meteorologico, ma di quello che ha a che fare con le ore, i minuti, i giorni e così via. È un argomento sicuramente affascinante, un argomento che ha interessato fisici, filosofi e tutto il resto, però ovviamente non ne parleremo dal punto di vista della fisica. Ma cominciamo con un santo, cominciamo con Sant'Agostino. Sant'Agostino nelle confessioni appunto dice, ah che cos'è il tempo? Beh se nessuno me lo domanda lo so, internamente sento di saperlo, ma quando poi cerco di spiegarlo non ci riesce. In particolare quindi il problema è se il tempo esiste intrinsecamente o se è invece un effetto delle nostre sensazioni. Per esempio per Sant'Agostino questo era un problema fondamentale, non tanto per problemi così legati alla filosofia generale, ma proprio per problemi intrinseci sulla religione. Perché se il mondo era stato creato a un certo istante, facendo i conti, con la Bibbia veniva 5.000 anni qua? Che cosa aveva obbligato Dio a farlo esattamente in quel momento? Quindi se il tempo esisteva, c'è doveva essere qualcosa che doveva aver scatenato questa creazione. Ovviamente se è una cosa psicologica ancora meno si capisce perché deve esistere qualcosa che porta anche Dio a fare un certo atto. Ora, quando entrano i giochi fisici, ovviamente entrano con Galileo all'inizio, in realtà la domanda verrà girata. Il tempo non si chiede che cos'è, ma si chiede di misurarlo. Questo ovviamente nel tempo di Galileo si cominciavano ad avere strumenti abbastanza piacisi, tutta la nascita della meccanica risale a quel tempo lì e questo voleva dire che c'era bisogno anche di costruire strumenti di misura ben precisi e in particolare strumenti di misura che potessero misurare il tempo. Ora, Galileo inventa in qualche maniera il primo cronometro che è il proprio polso, ovvero il battito cardiaco, e lo usa per misurare e per scoprire l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, per piccole oscillazioni. Ma poi si mette anche a costruire degli orologi sfruttando proprio il principio del pendolo, anche se non è certo il primo. Anzi, nella scuola di Galileo, quella in cui c'è anche Vincenzo Viviani e tanti altri, si costruiscono questi nuovi macinari meravigliosi dell'epoca e si cerca anche di venderli. Sapete, Galileo era sempre un po' alla ricerca di un mezzo di sostentamento che non lo costringesse a fare cose che non gli piacevano, come insegnare o anche fare oroscopi, perché a Padova faceva anche oroscopi. Allora, in una lettera a Huygens, Huygens era uno che veramente costruiva degli ottimi pendoli, orologi in generale, Galileo si vanta di aver rifatti, di aver costruito gli orologi estremamente precisi e dice anche di aver risolto un problema fondamentale. Ci sono delle ricostruzioni di quello che scriveva Viviani, ovvero dice, abbiamo scoperto che se noi lasciamo semplicemente oscillare il pendolo, questo piano piano devia dal piano di oscillazione e si mette a ruotare e così fa vedere anche un diagramma qui in cui si vede l'oscillazione del piano del pendolo. Però noi abbiamo trovato come fare a risolvere questo problema, abbiamo messo il secondo filo e così questa oscillazione è forzata a stare nel piano. Ora, se ci pensate, questo qui è abbastanza ironico perché Galileo scrive tutti i dialoghi sui massimi sistemi, essenzialmente cercando di provare che la Terra sta ferma nell'universo e Galileo scrive il dialogo sui massimi sistemi, cercando di provare che il Sole che sta fermo nell'universo è la Terra che gli gira intorno e ne fare questo fa anche degli errori, per esempio l'argomento che usa sulle maree non funziona. Però per l'appunto lui aveva sotto mano proprio la soluzione del problema, ovvero il pendolo di Foucault. Il pendolo di Foucault è quel pendolo per cui è lasciato libero appunto di oscillare, lui continua a oscillare sullo stesso piano, la Terra gira sotto e quindi dal punto di vista della Terra lo si vede fare delle rosette e quindi la scoperta che aveva fatto appunto Vincenzo Viviani e Galileo sulla rotazione del piano di oscillazione era una prova diretta della rotazione della Terra. Ma torniamo al tempo. chiaramente dopo Galileo bisogna parlare di Newton. Ora Newton ovviamente introduce il tempo, introduce un tempo generale, cosmico, valido per tutto l'universo e il tempo compare anche se in maniera implicita nell'equazione di moto. Infatti i corpi seguono delle traiettorie date dalla famosa seconda legge di Newton, forza uguale a massa per accelerazioni e dato che le forze fondamentali, come per esempio la gravità, le forze centrali come anche quella di una molla, ma che non è proprio fondamentale, ma insomma la forza elettromagnetica e così via, sono tutte conservative, conservano l'energia. Questo vuol dire che sono invarianti rispetto all'inversione del tempo, ovvero se io prendo un moto dato, il moto di un pianeta dato dalle leggi di Newton e ad un certo punto rinverto la velocità del pianeta, bene il pianeta fa la stessa ellisse solamente in direzione opposta, quindi da un certo punto di vista vedere un filmato di moto, non so, di pianeti o anche galassie e così via, o vederlo filmato in senso opposto, dovrebbe, cioè non c'è maniera di distinguere quale delle due è giusta, cioè qual è il senso del tempo rispetto all'altra. Questo diciamo lo si può vedere in un piccolo esempio qui e poi vi farò vedere anche una simulazione dal vivo, l'idea è la seguente, io parto con, al tempo t uguale a zero, con delle particelle che seguono le leggi di Newton, tutte messe in un certo angolo, le lascio andare per un certo tot di tempo, inverto tutte le velocità, le lascio andare per lo stesso intervallo di tempo, poi se volete rinverto le velocità perché sennò ovviamente alla fine ho le velocità opposte e ritorno nello stato iniziale. Allora, vediamolo un momento dal vivo, bisogna tenere presente che non è così facile fare questo esperimento con un computer perché i computer non usano numeri a infinita precisione, usano numeri con una certa precisione, quindi in qualche maniera fanno sempre dei piccoli errori quando fanno i calcoli e questo vuol dire che quando inverto tutte le velocità può succedere che non siano, o quando ci sono delle collisioni, che non siano esattamente le stesse quando vanno avanti nel tempo rispetto a quando vanno indietro nel tempo. Quindi per ovviare a questo problema vi faccio vedere un modello in cui tutto viene fatto con dei numeri interi, quindi non ci sono mai approssimazioni. In ogni cellettina ci possono stare un certo numero di particelle, ognuna è rappresentata da una freccettina, ognuna con una velocità ben precisa tra quelle a disposizione, non possono andare in una velocità arbitraria ma solo su qualcuna di queste. Quindi a ogni passo, vedete, le particelle si muovono e visto che erano partite tutte concentrate vanno a invadere lo spazio a disposizione. Ora questo qui lo rifacciamo aumentando decisamente il numero di celle a disposizione in maniera che ci sia un po' più, che si veda un po' meglio, insomma un po' più a grande scala. Quindi, vedete, queste sono le particelle, adesso levo le particelle e vediamo solamente, al tono di grigio, la densità del sistema. Ora se io la faccio andare, adesso in questo momento il sistema è per metà occupato e per metà vuoto. Se io lo faccio andare, diciamo, per 200 time step, vedete che questo gas, specie di gas, comincia a scarpagliarsi, qui sotto vedete il profilo di densità, chiaramente ci sono delle onde sonore che avanzano avanti e indietro, qui è molto rumoroso perché il sistema è molto piccolo, ma ho cercato di fare in maniera che la simulazione durasse un tempo molto breve e siamo arrivati a una certa situazione, completamente, vedete, indistinguibile. A questo punto posso invertire tutte le particelle, lo faccio andare per lo stesso numero di passi e quello che si vede è essenzialmente il ritorno indietro del gas fino al suo stato di partenza. È come riproiettare il filmato all'indietro, solo che non è un filmato questa volta, è una simulazione, la stessa simulazione, solo partendo da condizioni ben precise. Ora, quello che mi dovete domandare è perché nella realtà non si vede questo comportamento. Però prima di passare a questo facciamo qualche considerazione se è vero questo che abbiamo detto. Allora, in realtà non è proprio così. Se voi ci pensate, una particella carica in un campo elettromagnetico segue la legge di Lorenz. Ora, la legge di Lorenz è una legge per cui la forza è perpendicolare alla velocità e anche perpendicolare al campo magnetico. Quindi dovete usare la regola della mano destra. Mettete le dita nella direzione della velocità, portate le dita nella direzione del campo magnetico e il pollice vi dà la direzione della forza. Quindi vi mettete qui, prendiamo il caso di una particella carica, che è questa. Quindi mettiamo velocità per campo magnetico che è uscente e vediamo che la forza gira, in questo caso, verso destra e quindi una particella carica positivamente gira in questa maniera. Ovviamente una particella carica negativamente gira dalla parte opposta. Ora, se noi invertiamo la velocità, provate a invertire la velocità per esempio in questo punto e rifate il calcolo, vedete che la nuova velocità per il campo magnetico mi darebbe una forza che è diretta verso l'alto, quindi la particella comincerebbe a girare ma a girare da un'altra parte, non tornerebbe indietro. Per invertire la velocità, cioè per farla tornare indietro, non ci basta invertire la velocità, dobbiamo anche invertire la carica, ovvero, per detto in maniera più precisa, farla diventare un elettrone e un positrone. Ma in realtà in meccanica quantistica, quando si fanno i calcoli, è proprio così, le antiparticelle vengono considerate proprio come delle particelle che tornano indietro nel tempo. Vedete i famosi diagrammi di Feynman, quelli in cui le righe zigzag di qua e di là, bene, quei diagrammi si possano leggere per esempio sia come un elettrone che corrida qualche parte in avanti nel tempo o come un positrone che fa la stessa cosa, semplicemente leggendo lo stesso grafico all'indietro del tempo. Anche qui c'è un avvento interessante. Nel 1928, Irene Curie e Federico Joliot osservarono in una camera a nebbia. La camera a nebbia è semplicemente un recipiente dove c'è un vapore d'acqua soprassaturo che non forma della nebbia perché l'aria è molto pulita e non ha i granelli di polvere attorno a cui si formano le goccioline d'acqua. Quando passa la particella carica, questo qui fa condensare il vapore e quindi si vede la traccia come una fila di piccole bolliscine di acqua, piccole goccioline di acqua che si condensano. Allora, non si riusciva a capire se era appunto un elettrone che andava, mettiamo, dal basso verso l'alto o un positrone, che a quel tempo non si conosceva, dall'alto verso il basso. E mi sembra di ricordare che Paoli forse quando vide questa immagine disse, ah guarda, hanno scoperto l'elettrone positivo ma non se ne sono accorto. Nel 1936, quindi parecchio dopo, Carl Anderson vinse il Nobel per la scoperta del positrone, rifacendo essenzialmente lo stesso esperimento, però questa volta, come vedete, mettendo un sottile strato di piombo. Questo strato di piombo aveva il compito di rallentare l'elettrone o il positrone e quindi si capisce che, vedete, qui è più curvo perché va più lento, qui è meno curvo perché va più veloce, quindi si capisce che questa particella è entrata da qui, abbattuta e è andata di qua, non poteva aver fatto l'incontrario. Quindi, sapendo che, dalla parte in cui curva, sapendo come era messo il capo magnetico, lui scoprì che effettivamente questi erano elettroni positivi e quindi, diciamo, in questa maniera, quindi rompendo la simmetria del tempo, riuscì a scoprire la carica della particella e quindi vincere il Nobel. Oh, ecco qua un diagramma di Feynman, che appunto, in questo caso, questi sono dei quark, un quark up e due quark down che formano un neutrone, ma a un certo punto un quark emette una particella W e diventa down, diventa up, quindi il neutrone diventa positrone e la particella W, un bosone W, a un certo punto decade in un elettrone e in un antineutrino. Va bene, ora, perché vi ho fatto vedere questo grafico, perché in realtà l'interazione debole, che è quella appunto responsabile del decadimento del neutrone in protone, che è quella portata dalle particelle W e Z, che ha una particolare caratteristica. Mentre tutte le altre forze, se viste allo specchio, si comportano nella stessa maniera, in maniera speculare, la particella, la forza debole, no. La forza debole conosce, diciamo, mettiamola così, qual è la destra e qual è la sinistra, che vuol dire che un esperimento come questo, in cui c'è questo decadimento messo in un campo magnetico appropriato e così via, è l'esperimento di Madame Wu, per cui non ha preso il premio Nobel, anche se ovviamente l'esperimento è fondamentale, ma chissà, forse perché era una donna. Messe in un campo magnetico appropriato, gli elettroni vengono sparati in una certa direzione, se il tutto viene riarrangiato come se fosse allo specchio, gli elettroni vengono sparati sempre nella stessa direzione. E quindi c'è qualcosa che non torna, e quindi questo vuol dire che essenzialmente per poter invertire tutto in maniera appropriata, non basta invertire il tempo e le particelle con le antiparticelle, ma bisogna anche far vedere tutto allo specchio. E questa si chiama la simmetria CPT. Insomma, quindi la beccania avantistica ci dice di una cosa un pochino più sofisticata, ci dice che rispetto alla semplice meccanica newtoniana per cui tutto andava uguale se si invertiva il tempo, in realtà dobbiamo contemporaneamente invertire il tempo, le particelle con le antiparticelle guardate tutto allo specchio e tutte le leggi della fisica dovrebbero essere esattamente uguali. Ora però detto questo qui, c'è un grosso problema come abbiamo accennato, cioè il problema che la termodinamica ci dà un senso del tempo, ovvero nell'Ottocento si cominciò a capire che l'energia termica non si poteva convertire completamente in lavoro come per esempio l'energia potenziale. Per l'energia potenziale io ho un corpo a una certa altezza, ci attacco una corda, una carrucola, quello che voglio, faccio scendere il corpo e posso recuperare una certa quantità di energia. Se poi con questa stessa quantità di energia lo rimetto nel sistema, riporto esattamente il corpo all'altezza iniziale. Quindi posso tranquillamente convertire un tot di energia meccanica, magari energia potenziale gravitazionale, in un'altrettanta energia meccanica che mi sa rileggere di una molla. Viceversa in termodinamica si capì che non si poteva convertire tutto il calore che si poteva estrarre per esempio dalla combustione di una certa quantità di carbone in lavoro. C'era sempre qualcosa che andava scaricato e ora poi tra pochissimo vedremo un'analogia per capire questa faccenda. Però si può anche definire in termodinamica una quantità entropia che se va tutto bene rimane costante, se c'è qualche spreco aumenta e quindi essenzialmente abbiamo una quantità che mi dice il senso del tempo. Se ora prendiamo una variazione del modello di prima in cui questa volta ho fatto anche flottare l'entropia, mettiamoci nel sistema di partenza, qui abbiamo un certo numero di particelle, le facciamo andare per un certo numero di step, mettiamo 200 step e vedete che l'entropia piano piano aumenta a seconda delle collisioni perché il sistema sta andando verso l'equilibrio. Quindi qui ci sono di nuovo le onde che si propagano a destra e a sinistra nel nostro sistema, però questo diciamo è il tipo di comportamento. Piano piano il sistema si rilassa a velocità che possono dipendere dal tipo di collisione e così via e quindi si arriva a quello che si chiama la situazione di equilibrio, situazione in cui in principio più nulla cambia. A questo punto se io faccio l'inversione e lo faccio andare per gli stessi numero di scalini, vediamo che anche l'entropia sta diminuendo perché ovviamente il sistema è come se stesse tornando indietro nel tempo, ma questo non è una cosa che noi si osserva mai nella realtà e quindi il problema fondamentale è che l'entropia rompe questa simmetria nel tempo e quindi c'è qualcosa che non è descritto così semplicemente dalle leggi di Newton. Chiaramente questa è una cosa che angosciava profondamente gran parte dei fisici. Quindi questo è il problema della freccia del tempo, ma prima di chiudere questa prima parte cerchiamo di capire un po' meglio che cos'è l'entropia. Guardiamo un'analogia tra ruote idrauliche e macchine termiche. Anche le ruote idrauliche si assomigliano molto alle macchine termiche perché chiaramente da cui cominciare posso studiare ruote idrauliche più o meno efficienti con varie tecnologie. Se io spreco, vedete, se io spreco dell'energia potenziale dell'acqua sicuramente avrò una ruota idraulica poco efficiente, così come se io spreco in qualche maniera l'energia dell'acqua perché faccio fare dei salti, quindi parte dell'energia va a finire in turbolenza dell'acqua, essenzialmente in calore, e quindi non la sfrutto per andare in energia. Quindi un'analisi delle ruote idrauliche ci dice che le ruote che possono funzionare anche come pompa, per esempio questa qui, possono funzionare sia come ruota che come pompa, mentre queste ovviamente come pompe farebbero un po' schifo. E ci può dire tranquillamente che l'efficienza di un'auto idraulica si può in qualche maniera definire facendola funzionare da una parte come motore e dall'altra come pompa. Più acqua riesce a ripompare alla quota di partenza più il sistema è reversibile. Chiaramente se riesce a ripompare esattamente tutta l'acqua che ha assorbito nella fase di lavoro, la ruota è una ruota reversibile. E questo per farlo non deve avere dissipazioni e quindi viene come contraltare che la ruota deve muoversi più lentamente possibile e quindi in qualche maniera ritorna il concetto di quasi staticità. Ora facciamo un po' di analogie tra macchina termica e ruote idraulica. L'energia di ingresso è data dalla quota dell'acqua di ingresso e dalla massa che entra, più la costante di gravità che però è una costante e ci interessa poco. L'energia di uscita ovviamente ha la stessa espressione, quantità di massa, accelerazione di gravità e la quota di uscita. Se la ruota è perfetta, la massa che entra è uguale alla massa che esce a questa quota e la ruota quindi scarica tanta acqua quanta ne assorbe. Se la ruota non è reversibile, scarica più energia, ovvero parte in forma di acqua, parte in forma di calore. Però se si vuole un po' forzare l'analogia e si usa l'equazione di Einstein, la formula di Einstein è uguale a mc², si vede che in realtà anche il calore che è andato a finire nell'acqua, in realtà si vorrebbe misurare in unità di massa. Ovviamente tutto questo non è possibile praticamente perché questo fattore C² è immenso e quindi l'aumento di massa è pochissimo, non si vede con una bilancia. Però in principio è così, cioè in realtà una ruota che non sia perfetta scarica in qualche maniera più acqua di quanta ne è entrata, più massa di acqua. Ora noi possiamo cercare di capire che cos'è l'equivalente della massa per le macchine termiche, scrivendo in questa maniera la massa, multipliata per g ma è solo una costante, non è nient'altro che l'energia divisa la quota. Ora l'analogo della quota è sicuramente la temperatura. L'analogo dell'energia è il calore che entra e quindi l'analogo della massa è l'entropia. L'entropia è proprio l'energia o il calore che entra diviso la temperatura. Quindi viene chiaro a questo punto cosa succede. Per una ruota reversibile tanta massa entra, tanta massa esce e quindi il bilancio di massa è zero. Per una macchina termica reversibile il bilancio dell'entropia è zero. Per una macchina imperfetta, se è una ruota idraulica vuol dire che scarica più acqua di quanta ne è entrata, perché parte della legge potenziale dell'acqua è diventata calore dell'acqua e quindi è diventata in qualche maniera massa dell'acqua. Per una macchina termica non ideale, imperfetta, l'entropia scarica più entropia di quanta ne è entrata. perché parte del calore non è stato trasformato in lavoro ma è andata a finire lo scarico. E quindi l'entropia essenzialmente è l'equivalente per una macchina termica della massa per una ruota idraulica. Ora, ritorniamo al problema di partenza. Perché il mio sistema, che in principio doveva essere perfettamente reversibile, perché obbedisce alle leggi della meccanica classica, mettiamola così, oppure si può fare lo stesso esperimento anche per le leggi della meccanica quantistica, non funziona perché da dove nasce l'irriversibilità. Ora, questo è un problema che ha assillato il povero Boltzmann. Boltzmann appunto era un fisico matematico molto bravo, infatti lo chiamavano il terrorista algebrico, e cercò di trovare una formula per l'entropia, che poi è essenzialmente quel grafico che vi ho mostrato, partendo dalle leggi della termodinamica. E trovò effettivamente che c'era una quantità che si comportava così. scatenò una quantità di critiche mostruose, perché appunto la prima domanda era come si concilia con la reversibilità. E poi, vedremo tra un punto, naturalmente nella prossima puntata, che c'è anche un altro teorema, dovuto a Poincaré, su cui ci ha lavorato anche Fermi, che dice che le traiettorie torneranno sempre arbitrariamente vicine a ogni punto già visitata in un sistema chiuso. E quindi come faceva tutto ciò a concilarsi con l'aumento dell'entropia? Ora, questa Boltzmann, diciamo, si suicidò, perché non riusciva a risolvere questo problema. In realtà quello che aveva fatto è che aveva trascurato un'approssimazione che aveva fatto, cioè aveva trascurato di considerare la sua importanza, ovvero aveva pensato che sempre le particelle che collidevano nel gas fossero scorrelate tra di loro, ovvero non avessero delle correlazioni. In realtà, come vedremo, sono proprio le correlazioni precise che ci danno la reversibilità. Se nel nostro sistema sconvolgiamo qualche cosa, che le imprompiamo qualche correlazione, non torna più niente. Ma prima di andare ad esaminare l'importanza delle correlazioni, finiamo di vedere rapidamente che cosa successe nella meccanica statistica. Allora, le di Boltzmann furono poi estese e completate da Gibbs, dove questa volta considerò tutte le possibili configurazioni di un sistema, ovvero, fate conto di avere delle particelle poche, mettiamo 3 o 4 particelle in una scatola. Le particelle possono stare in alcune posizioni, o ancora meglio, prendiamo un dado, che è ancora più semplice. Un dado, chiaramente ha 6 facce, e normalmente sta con una sola faccia su. Però nella prossima serie Gibbs è quella di considerare tutte le possibili disposizioni del dado, quindi in questo caso tutte e 6 le facce, ovvero per le particelle, tutte le possibili disposizioni delle particelle nella nostra scatola, e andare, chiamando X una di queste possibilità, una faccia del dado o una disposizione di particelle nella scatola, andare a calcolarsi qual è la probabilità di trovare appunto il sistema in una certa configurazione. è come se io prendessi un sistema meccanico, cioè tante fotografie mentre stanno davanti, poi in qualche maniera le voglio classificare, tutte le fotografie hanno le particelle più da una parte che da quell'altra, tutte le fotografie hanno le particelle più o meno distribuite, e così via. Quindi lui è come se lavorasse con queste fotografie. Il sistema quindi è quello di andare a studiare questa distribuzione di probabilità, che come poi fece notare Shannon, ha a che fare con l'informazione, ovvero si può costruire una funzione prendendo la somma su tutte le possibili configurazioni della probabilità per il logaritmo di questa probabilità, e questa si comporta come l'entropia. Basta fare per esempio alcuni esempi. Prendiamo sempre il caso del dado. Supponiamo che noi abbiamo un dado truccato. Un dado truccato è un dado in cui esce sempre il 6. Allora, la probabilità di osservare l'1, il 2, il 3, il 4 e il 5 è 0, mentre la probabilità di osservare il 6 è 1. Ora, noi supponiamo che 0 log 0 faccia 0, perché è più ragionevole fare così. Chiaramente se l'ho provato a fare con numeri piccoli vedete che torna invece esattamente con 0. E quindi vediamo che l'entropia di un dado di cui conosco tutto è dato da 0 log 0 per i numeri 1, 2, 3, 4 e 5, più 1 log 1 per il 6, che qua di nuovo 0, e quindi è 0. Quindi se so qualcosa di esattamente come si comporterà un sistema, la mia informazione è massima e la mia entropia è minima e è 0. Viceversa, supponiamo adesso di prendere un dado normale. Un dado normale è quello in cui ho un sesto, un sesto, un sesto, un sesto di probabilità. Ecco, se lo mettete qui ovviamente vi viene fuori una certa quantità positiva, perché il logaritmo di un sesto è negativo e quindi questo meno ci è stato messo apposta che fa tornare tutto positivo, che è grande. Anzi, si può dimostrare che è il massimo, ovvero quando io non so niente di qualche cosa, l'entropia è massima. Questo è il logaritmo, che magari vi può anche dare noia, ma c'è il grosso vantaggio che il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi. Ora, se io ho due sistemi staccati uno dall'altro, la probabilità, per esempio due dadi, che non interagiscono per niente, la probabilità di fare con il primo dado un certo numero e con il secondo dado un altro numero, è semplicemente il prodotto delle probabilità di fare separatamente il primo numero del secondo numero. Quindi, se i sistemi sono staccati, l'entropia si deve sommare e grazie al logaritmo effettivamente si somma. E quindi, questo qui è un principio che si può anche mettere alla base di tutta la termodinamica, il principio di massima entropia. E per esempio, nel principio di massima entropia si si viene a trovare la famosa formula delle distribuzioni, per esempio, delle velocità di un gas o di qualsiasi configurazione di un sistema che dice che la probabilità di trovare il sistema con una certa energia è semplicemente, questa è una costante Z, è semplicemente l'esponenziale dell'energia divisa la temperatura, meno l'energia divisa la temperatura, che vuol dire che a basse temperature il sistema sta a basse energie, più a via che si aumenta la temperatura il sistema va a energie sempre più alte. E quindi, in realtà, questa curva deriva da il fatto che abbiamo una competizione tra la probabilità di osservare il sistema a una certa energia, che è appunto dato dalla formula di Boltzmann, ma il fatto è che ci sono tanti più stati ad alta energia di stati a basse energie. Per esempio, se noi prendiamo un gas di particelle e lo stato, considerandole come se fossero palline, lo stato a minima energia sono tutte le particelle ferme. E questo, diciamo, lasciando perdere le posizioni, c'è solo una maniera di mettere tutte le particelle con velocità uguale a zero. Viceversa, se noi cominciamo a mettere dell'energia nel sistema, ovvero le particelle cominciano a muoversi, è chiaro che ho più maniera di distribuire l'energia tra le particelle, anche se fossero solamente le velocità, se fossero solo numeri interi, cominciamo a vedere. Se sono tutti zero, mettiamoci ho sei particelle. Se sono tutte zero, l'unica distribuzione è zero, 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 zero. Se ho energia 1, allora c'è già sei possibilità di metterle, perché posso mettere 1 nella prima particella, 1 nella seconda particella e così via. Se ho energia 2, il numero di disposizione aumenta ancora, perché posso mettere 1 nella prima particella e 1 nella seconda, 1 nella prima e 1 nella terza, 1 nella prima e 1 nella quarta, e così via, oppure 2 nella prima, 2 nella seconda, 2 nella terza, eccetera, eccetera. Se vi fate un po' di conti, di combinatori, vedete che questo numero di distribuzioni è una funzione che aumenta parecchio rapidamente, mentre la prima è una funzione che decresce parecchio rapidamente, e il loro prodotto vi dà proprio la curva a campana che si è vista nella slide precedente. E questo è anche quello che viene fuori dalla termodinamica, cioè che lo stato di energia e lo stato, diciamo, più probabile, lo stato, diciamo, di un sistema, lo stato stazionario e l'equilibrio, è dato dal minimo di una funzione, che è l'energia meno l'entropia, moltiplicata per la temperatura. Come vedete, la temperatura da quino e mezzo fa sì che sposta il peso da dare all'entropia o del peso da dare all'energia. Quindi, se siamo a temperature molto, molto basse, essenzialmente vince l'energia. È la meccanica. La meccanica è data dalle configurazioni stabili, sono quelle date da un minimo dell'energia. Viceversa, se andiamo a temperature molto, molto alte, vince l'entropia. E quindi lo stato di un sistema è dato essenzialmente da tutti gli stati possibili. Nel mezzo abbiamo il nostro bilancio, come si vede, quindi un bilancio, che è un fattore proporzionale che cerca di favorire il numero di stati e quindi favorirebbe questa curva verde qui, e un fattore di energia che favorirebbe invece la curva viola. E quindi abbiamo una distribuzione con un massimo da una certa parte. Facciamo un po' di pausa e poi andiamo avanti. Grazie. Grazie.